Buona giornata amici di Fano TV, ben trovati alla rassegna stampa di oggi martedì 4 luglio 2023. Vediamo subito l'almanacco del giorno, vediamo chi si festeggia oggi. Oggi è la festa di Santa Elisabetta del Portogallo, era una principessa, era figlia di Pietro III, re di Aragona e di Costanza, figlia di Manfredi, re di Sicilia. Nonostante gli agi che poteva offrire la sua condizione, trovò la via della santità con una vita di preghiera e di carità verso il prossimo. Santa Elisabetta del Portogallo, visse nel XIII secolo. Ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la giornata, su tutte le marche ci saranno oggi residui acquazzoni tra la notte e il mattino, quindi ormai li abbiamo passati. Di nuovo instabile il tempo nel pomeriggio nell'entroterra. Le massime oscillano tra i 27 e i 31 gradi, le minime si sono attestate fino a 22. I venti sulle coste espireranno con una direzione, con una tensione debole da nord, mentre nell'entroterra sempre debole, da ovest e sud ovest. Le temperature dovrebbero essere in calo, ma non ci spererei molto. E chiediamo conferma al nostro amico concessionario di spiaggia Mauro Talamelli di Baia Metauro, al quale auguriamo una buona giornata. Buongiorno Mauro. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora questa notte un po' ha piovuto, c'è stata qualche pioggerellina? Sì. Sì, qua giù in spiaggia ha piovuto verso le quattro stanotte. Adesso com'è la situazione? Adesso il cielo è pulito, sereno, c'è il sole, il mare è calmo, è una bella giornata. Se mantiene così è bellissimo da venire in spiaggia. Se mantiene così, qual è la tua esperienza? Tu ormai odori il tempo, quindi sai benissimo come si evolverà durante la giornata. Cosa dici? Io penso che mantenga una bella giornata oggi, perché verso il mare, verso Pesaro è tutto pulito il cielo. Quindi chi può può trascorrere una bella giornata in spiaggia oggi, quindi è una bella cosa. Senti, parlaci un po' della tua concessione. Quanti ombrelloni hai e quali servizi offri? Allora, la mia spiaggia ha circa 250 posti, ho un ristorantino, c'è il campo da beach, polivalente, biliardo, biliardino, ping pong per i ragazzi, acqua gym, animazione per i bambini, un po' queste cose. Insomma si può dire che in spiaggia non ci si annoia? Ah no, questo no. Però ci si rilassa anche perché io ho un certo distanziamento, anche con il Covid non ho perso nessun posto perché ero già distanziato da prima della pandemia, diciamo. È stata una mescetta aziendale sin da subito. Quindi c'è anche possibilità di godere lo spazio sufficiente, insomma non quell'assembramento che poi magari disturba perché la vicinanza, troppa vicinanza, insomma non è certo una cosa gradevole. Senti, il mare, il mare com'è oggi? Il mare calmo? Il mare è calmissimo, calmo, calmo, calmo. È una tavola. Quindi si può fare il bagno tranquillamente? Sì. Benissimo. Ok, Mauro ti ringraziamo per questo primo approccio della mattinata. Ci risentiamo domani e speriamo che il tempo ancora tenga per tutta la settimana. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Ed ecco ora i giornali. Vediamo subito il Corriere Adeatico sulla pagina di Fano. Oggi vediamo l'esito dei Fano, dei Malatesta. Una bella manifestazione, prima si chiamava il Paglio delle Contrade, ora ha cambiato nome, riassumendo un po' la vecchia denominazione di un tempo, i Malatesta a Fano. Un periodo medievale molto molto ricco di storia, ricco anche di arte e di cultura che ha coinvolto la città di Fano. La dominazione dei Malatesta ha avuto effetto anche in diverse altre città italiane. Pandolfo III Malatesta fu anche podestà di Bergamo e di Brescia e quindi fu al soldo delle grandi signorie di tutta la penisola. Paglio vinto dalla Roccaforte di Fano gli spettacoli nel nome di Pandolfo. Ebbene, oltre a una bella rivocazione storica, c'è stata anche la contesa tra quattro, non rioni quest'anno, ma tra quattro castelli. Abbiamo Fano, Mondolfo, Mondavio e Castelvecchio. Quattro castelli che si sono contesi con il tiro alla fune. A dire la verità era più interessante, più coinvolgente, il paglio con i cavalli che correvano nella pista. Il cavaliere poi doveva centrare l'anello con la sua lancia. Però anche il tiro alla fune costituisce una gara così, piuttosto vivace. I concorrenti l'altra sera, domenica sera, in Piazza Grande, Piazza 20 Settembre, sono stati molto incitati dal pubblico. A vincere è stato Fano, Fano che ha spuntato contro San Costanzo. Scusate, primo sbagliato. I quattro castelli in gara erano Fano, San Costanzo, Mondolfo e Castelvecchio. Mondavio questa volta non c'entrava. Ebbene, Fano ha vinto il paglio, al secondo posto si è classificato San Costanzo e poi gli altri due si sono contesi il terzo e il quarto posto. Un entusiasmo quello sulla gara che ha così vivacizzato un po' tutta la serata conclusiva che è stata anche animata da un bel spettacolo, devo dire. Un bel spettacolo introdotto dagli acrobati dei giullari del Corvo che hanno impressionato il pubblico, devo dire, con le loro evoluzioni. Ad alcuni metri da terra c'era una ragazzina, chiamiamola così, ma era una bella signorina vigorosa che nell'alto di un trespolo ha fatto delle evoluzioni veramente impressionanti. E' seguito poi l'Associazione Leali della Terra che ha mostrato degli effetti della falconeria e poi ancora la vivacissima rappresentazione sui trampoli del circa teatro, anche qui delle animatrici molto molto estroverse che hanno divertito il pubblico e lo hanno anche interessato. Quindi tre giorni di manifestazioni, Fano ha rivissuto l'atmosfera medievale che dovrebbe essere un pochino più, diciamo così, più vissuta, più introdotta, più studiata da parte della città. Magari si propende più per la Fano romana, tra poco ci sarà anche la Fano dei Cesari, ma la Fano medievale non è meno ricca e non è meno interessante. Vediamo le altre notizie. Ieri è stato il giorno della piscina che la Fondazione Carifano si appresta tra breve ad inaugurare, sono in corso gli accertamenti per vedere che tutto vada bene, nel prossimo mese di settembre. La piscina è ormai pronta, a settembre si inuoterà. La previsione è del Presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola, che l'ha finanziata con 7 milioni e 200 mila euro. La cifra è lievemente aumentata, diciamo lievemente, non poco, ma è aumentata nel corso dei lavori. A dire che manchi ormai soltanto l'acqua, ce ne corre, ma davvero il completamento della nuova piscina è questione di settimane. Si può perfino azzardare che la consegna dell'opera possa venire in contemporanea con l'ufficializzazione dell'esito del bando, che l'amministrazione comunale ha pubblicato il 30 giugno scorso, proprio alcuni giorni fa, con un modello di project financing. Un modello che prevede dei miglioramenti, le offerte che appunto parteciperanno a questo bando dovranno prevedere dei miglioramenti negli impianti e poi anche un ammontare di quote più favorevole per quanto riguarda l'utenza. Ebbene, una breve descrizione dell'impianto. Ci saranno tre vasche, una grande vasca da 25 metri, poi due più piccole per bambini e attività motorie come acquagym. Sul lato monte la gradinata di 250 posti e poi spogliatoi forniti di un arredo veramente incomiabile che sarà accessibile attraverso dei tornelli. Ancora la caffetteria è una cosa molto molto importante, è la sezione dedicata alla riabilitazione e fisioterapia con una nuova piscina, una vasca attrezzata. Nel piano interrato poi la sofisticata impiantistica con la centrale termica alimentata da metano e fotovoltaico, ma c'è già anche la predisposizione per l'idrogeno. Quindi veramente sono impianti molto avveniristici. E poi l'avanzatissimo sistema di filtraggio dell'acqua adottato anche da Parigi 2024. Quindi siamo veramente ad alta tecnologia. Il sindaco Massimo Seri l'ha definita la piscina più bella della regione. E a questo punto non rimane che attendere alcuni mesi per poi poter usufruire di questo bellissimo impianto lo faranno non solo i fanesi, ma questo è a disposizione anche dei comuni e dell'entroterra che rientrano nell'ambito di interesse della Fondazione Carifano. Ieri è stata presentata questa iniziativa storica della città di Fano, questa bella calda terza età. Terza età, animazione per 15 circoli, visite culturali, gara di briscola e convivialità a luglio ed agosto. Si tratta della 33esima edizione di questa iniziativa. Sono previsti quest'anno 14 iniziative dal 6 luglio al 24 agosto, in media un paio alla settimana. Si inaugura nella cooperativa Tre Ponti dopo domani alle ore 19.30. Ci sarà uno spuntino conviviale a base dei prodotti raccolti nei tre orti pubblici. Quindi anche un risultato per quanto riguarda questa bella iniziativa. Gli orti per anziani costituiscono un passatempo ma anche una piccola attività economica per tante tante famiglie. Il 20 luglio ci sarà la visita alla Pinacoteca e al Museo di Fano. L'invito è steso anche agli anziani di San Costanzo e di Mondolfo. E poi a seguire ancora una pericena nel circolo Madonna Ponte. Alla gara di briscola possono partecipare i circoli di tutto l'ambito sociale. Quindi saranno addirittura nove i comuni che potranno essere coinvolti in questa iniziativa. Poi il calendario segue con tante altre iniziative di animazione per una estate serena e divertente in modo particolare per la terza età. Un autovelox a Rosciano. Ebbene non si arrendono i residenti di Rosciano per chiedere più sicurezza della viabilità del loro quartiere. E soprattutto guidano questa protesta due esponenti politici. Il segretario dell'Udc Stefano Polligioni e la consigliere comunale di Fratelli d'Italia Lucia Tarsi che ieri giorno hanno incontrato di nuovo i residenti della frazione animandoli ancora per tenere alta la protesta. Una protesta che ovviamente i residenti condividono perché sono loro che tutti i giorni devono confrontarsi con i pericoli della viabilità. Ci sono due punti nevralgici a questo proposito. Uno è la rotatoria di via Corridoni che è stata al centro di tante e tante battaglie e anche di tante manifestazioni. Lì c'è una barriera fonoassorbente che preclude molto della visibilità dell'incrocio quindi gli incidenti non mancano. E poi un altro punto critico è quello della statale Flaminia all'altezza della vecchia chiesa di Rosciano. Lì era prevista una rotatoria che però è passata nel dimenticatoio dell'amministrazione comunale e quell'incrocio dove convergono le vie cespi la Flaminia stessa, la via che sale a Montegiove costituisce un centro molto molto pericoloso. E certo non basta il marciapiede che l'allargamento del marciapiede che la provincia insieme al Comune stanno realizzando proprio in questi giorni. Quindi a questo proposito possiamo dire che la battaglia continua. Passiamo a Fossombrone Mezzo milione per la quadreria Cesarini Sgarbi a Fossombrone si è complimentato per il progetto Ammonta mezzo milione di euro il finanziamento che il Comune ha riservato per la ristrutturazione e la riqualificazione della Casa Museo Cesarini un punto importante dal punto di vista culturale dove purtroppo sono anni in cui penetra acqua piovana dal tetto e quindi occorre passare ai rimedi. Ambito sociale verso l'ASP grande stazione appaltante ebbene c'è una protesta per quanto riguarda la ristrutturazione dell'ambito sociale una protesta che proviene anche dai componenti del terzo settore sono 22 le organizzazioni che stanno evidenziando delle criticità nella bozza di progetto che è stata elaborata dall'amministrazione comunale soprattutto viene criticata la previsione di un singolo amministratore unico invece di un consiglio di amministrazione e a giudizio delle associazioni si rischia che l'azienda pubblica diventi una grande stazione appaltante di circa 12 milioni di euro in altre parole un grande centro di potere gestito da un dominus in contrastato l'amministratore unico appunto che preoccupa il terzo settore non si vuole che questo diventi un grande carrozzone di carattere politico un consiglio di amministrazione invece che un amministratore unico dovrebbe garantire più partecipazione e quindi più condivisione per quanto riguarda poi le scelte che dovranno essere fatte la bandiera arancione a frontone il sindaco dice è solo un punto di partenza Acquaroli è stato anche a Mondavio per i vessilli del touring e sull'accoglienza turistica sono sempre di più i centri della nostra provincia che si freggiano di emblemi per la qualificazione della loro ospitalità ma anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente la cura dei servizi insomma di tutto ciò che fa bello il turismo nella nostra provincia vediamo la pagina di Senigallia dove si dà l'addio a Massimo May titolare di Levante Pizza che è deceduto nel corso di un incidente stradale un fuoristrada avvenuto sulla Corinaldese aveva, era molto giovane aveva 48 anni e lascia tre figli addio Massimo se è stato un esempio dolore per il ristoratore morto in moto purtroppo una disgrazia che ha suscitato molto, molto cordoglio tra i colleghi lavoreremo con la passione che ci ha trasmesso lui hanno dichiarato e beh tutto la descrizione di quanto è avvenuto e soprattutto del cordoglio della commizione della commozione che ha suscitato questa disgrazia disgrazia vediamo anche la notizia di apertura sulla pagina di Pesaro si parla ancora di antenne le vediamo qua di fronte a un cielo piuttosto fosco nuvoloso che raffigura un po' l'umore dei residenti i quali ovviamente non vogliono il prolificare di queste strutture le nuove antenne sono addirittura 50 pure i borghi senza scampo nelle richieste per l'anno in corso ci sono impianti in Viale Trieste a Candelara e sulla panoramica dell'Ardizio un lungo elenco di richieste di località così procede l'attività legata alle antenne di telefonia una dopo l'altra in questo articolo si elencano le nuove proposte per l'installazione del 5G che i gestori delle tre principali società di telefonia hanno presentato appunto per l'anno in corso al servizio comunale ambiente e hanno attivato la SUAP edilizia privata a detenere il primato del numero delle antenne e Iliad con 21 stazioni in uso e altre 15 proposte 15 richieste e beh insomma i residenti non è che gradiscono molto questo proliferare di antenne voglio anche evidenziare questo risvolto di cronaca sfregiarono Lucia uno degli aggressori e libero in Albania si tratta di Rubin Taliban doveva scontare altri due anni di cella ma ha ottenuto l'espulsione con Altistin Precettai su incarico di Luca Varani lanciò l'acido contro l'avvocatessa e qua in questa foto vediamo Lucia Annibali lo prevede la legge per me non cambia ha commentato appunto la vittima di questo atroce di questa atroce vendetta che ha orchestrato Luca Varani che ovviamente è in carcere vediamo il resto del Carlino l'apertura è dedicata alla piscina al sopralluogo della piscina che ieri il presidente della fondazione Giorgio Gragnola insieme al sindaco di Fano altri tecnici e altri rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori hanno fatto nell'impianto piscina di via Mattei ultimi ritocchi è il miglior impianto delle marche ecco il resto del Carlino riporta un po' le dichiarazioni del sindaco la soddisfazione di seri durante il sopralluogo primi tuffi a settembre dopo aver individuato il gestore Gragnola della fondazione si potrà allestire persino una cucina perché poi lì c'è il bar c'è un po' insomma un po' di tutto è anche un luogo di relax non solo appunto di nuoto di sport e di riabilitazione ma anche un luogo dove passare un po' di tempo ma per la ciclabile bisognerà attendere è bello il collegamento ciclabile tra il centro storico di Fano e questo impianto alla periferia poi a fondo pagina abbiamo la presentazione di questa calda terza età protagonisti di 14 appuntamenti estivi dissuasori alla rotonda di Rosciano e ipotesi arretramento delle barriere iniziative del comune dopo le sollecitazioni degli abitanti del quartiere lavori in partenza entro il mese altro problema riguarda il passaggio dei pedoni lungo la Flaminia a fianco della chiesa critici Udc e Fratelli d'Italia che ieri hanno convocato un incontro presente anche la stampa che ha relazionato sulle richieste dei residenti delle quartiere poi vediamo che Pino Insegno sarà il nuovo sindaco del paese dei Balocchi l'attore comico riceverà la fascia da sindaco venerdì 17 agosto ebbene questo simpatico attore comico doppiatore di grande levatura sarà il nuovo sindaco della città dei Balocchi una delle manifestazioni più importanti del mese di agosto perché? Perché è dedicata ai bambini ma anche alle loro famiglie quindi ci sarà tantissima gente che farà un escursus tra le avventure di Pinocchio in quel meraviglioso luogo che è la città che è il parco dedicato al mondo dei bambini vediamo la cronaca deruba dei gioielli la compagna e ci fa 900 euro al compro oro ebbene è stato un furto d'amore no un furto per interesse perché questo 71enne all'epoca di fatti ne aveva 69 ha derubato la sua compagna e ha venduto i suoi gioielli a questo punto però ne dovrà rispondere di fronte al giudice telefoni muti da aprile e io non pago più ma l'umore a Serungarina dove le linee fisse della team non funzionano e diversi anziani sono in difficoltà c'è chi pensa alla disobbedienza civile sì perché una decina di famiglie continuano a pagare le bollette ma purtroppo non ricevono il servizio e questo di servizio dura da ben due mesi mia madre ha 95 anni non riesce a usare il cellulare il guasto sarà forse risolto solo il 19 luglio insomma ancora ci vuole la pista polivalente in uno stato pietoso a Marotta sul lungomare Cristoforo Colombo tubi di ferro pericolanti e blocchi di cemento corrosi tuona il consigliere Bonacosi tiriamo ancora la pagina vediamo a Urbino dove la cultura e il cibo sono i portabandiera della città ducale così porteremo i turisti lo afferma l'assessore Roberto Cioppi abbiamo incaricato un'importante agenzia di comunicazione di gestire la nostra promozione ebbene anche qui una intervista ma Urbino insomma si promuove un po' per conto suo con la sua atmosfera rinascimentale siamo in conclusione voglio segnalarvi ancora questo articolo di segnalazione del consigliere regionale Rossi per quanto riguarda Piobbico strade circuito Rossi scrive al prefetto ebbene c'è l'esigenza di maggiori controlli nei giorni festivi lungo la statale C257 e la statale 73 bis perché veramente qui ne accadono di tutti i colori e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 con il TG di Fano TV Occhio alla Notizia e domani per la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risulta a risulta a risulta e